Febbre alta e rigidità a livello della nuca con questi sintomi è stata trasportata di corsa al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo, una ragazza di 22 anni originaria di Porta Empedocle. Il sospetto adesso è di meningite. La ragazza si trova ricoverata al reparto di rianimazione dell'ospedale perché i sintomi che lamentava hanno fatto pensare al peggio e i medici non hanno perso tempo a prendere le dovute precauzioni. A dare certezza sulle cause del malore sarà l'esito dell'esame lombale. L'ASP di Palermo ha già avviato la profilassi anche per le persone vicine alla ragazza che inconsiste nella somministrazione del vaccino. Se venisse confermato il caso di meningite sarebbe l'ottavo in Sicilia dall'inizio dell'anno, il secondo nel giro di due mesi. Lo scorso 14 giugno, sempre a Palermo, era morta Gloria Giulia Lotta di 24 anni. Anche in quel caso i sanitari si erano subito attivati per avvertire i titolari dei locali dove la ragazza aveva trascorso le ultime ore. Ma a preoccupare è anche la psicosi che si genera in questi casi. Psicosi in molti casi alimentata anche dallo scambio di informazioni sui social. La 22enne di Porta Empedocle lavora in due locali della città ma questo non esclude le centinaia di altre possibilità dove la ragazza avrebbe potuto contrare il batterio.